Beh, diciamo che il mister ha con sé rispetto agli altri allenatori che ho avuto forse un carisma, tra virgolette, io lo chiamo un po' un carisma internazionale un qualcosa in più, insomma, che ovviamente apporta parecchio a una squadra importante come il Napoli una mentalità dove c'è molto confronto con i giocatori sia a livello umano sia in campo e quindi un'armonia del lavoro e dei concetti che noi cerchiamo di applicare sul campo e seguirlo visto, insomma, il falmarese del mister.